Esordisce in teatro con lo spettacolo con atti unici di Nile Simon, diretta da Antonio Serrano, poi nel 1985 recita in Sene Cadette o teatro per la regia di Bruno Colella e nel 1993 nella Voglia matta di Attilio Corsini. Nel 1997 fa il suo esordio sul grande schermo e partecipa a due film, Finalmente soli, diretto da Umberto Marino, in una parte minore, e Fuochi d'artificio, per la regia di Leonardo Pieraccioni nel ruolo di Virginia. È poi la volta della televisione, con la partecipazione a una puntata da Un posto al sole, nel ruolo di una ladra d'auto. Segue nel 1998 la serie televisiva S.P.Q.R., diretta da Claudio Risi e Anni 50, per la regia di Carlo Vanzina nel ruolo di Nadia. Ritorna in teatro con il giorno della civeta di Fabrizio Catalano. Recita nella commedia I tre moschettieri. Per la regia di Pino Amendola e Nicola Pistoia e debutta al Salone Margherita di Roma con lo spettacolo di Castellacci e impingitore dal titolo Buffoni e Piaccioni. Poi è ancora in televisione, tra il 1999 ed il 2000 con la partecipazione all'episodio di Don Matteo intitolato Il Fuoco della Passione diretto da Enrico Aldoini. Poi all'episodio di Tequila and Bonetti intitolato Crimini d'estate, nel ruolo di Luisa, quindi viene chiamata da Pier Francesco Pingitore allo spettacolo La Casa delle Beffe. Nel ruolo di Paola Rossana e debutta su Canale 5 con il Bagaglino come prima donna, nel varietà Buffoni con Pipo Franco, Leo Gullotta e Oreste Lionello. Chiude l'anno 2000 in teatro a dicembre con lo spettacolo di Castellacci e impingitore Baurini e Cocote con Oreste Lionello, Martuffello e Maglio Dovi. In scena sempre al Salone Margherita di Roma. Partecipa quindi al varietà, tra teatro e tv, come prima donna di Saluni in onda su Canale 5 con il Bagaglino e attenti al Buffone per la Regia. Di Bruno Colella, è poi impegnata ancora in televisione da Sanremo per il programma del quarantesimo premio Regia Televisiva. Che conduce insieme a Daniele Piombi e nella trasmissione Donne and Viaggi su Rete 4. Recita quindi nelle serie Carabinieri 2 a 3, per la Regia di Raffaele Mertes nel ruolo del magistrato Claudia Morresi e interpreta il sindaco di Gubbio, Laura Respighi, nella quarta stagione di Don Matteo con Terence, il Nino Frassica e Flavio Insinna trasmesse da Rai 1. Nel 2005 partecipa a Tre Fiction Televisive, Edda, Regia di Giorgio Capitani nel ruolo di Nora Pessine, San Pietro, Regia di Giulio Base, nel ruolo di Maddalena e una famiglia in giallo, Regia di Alberto Simone, nel ruolo del vicequestore Emma Caponero. Ritorna poi nella serie televisiva Don Matteo 5, Regia di Giulio Base, Carmine Elia, Elisabetta Marchetti, nello stesso ruolo del passato. Nel 2007 in teatro recita accanto a Enrico Berruschi nel musical Gli uomini preferiscono le bionde. Appare ancora in televisione in Gente di Mare 2, per la regia di Giorgio Serafini. Partecipa all'episodio, intitolato Una vita da salvare, poi in vita da paparazzo, Regia di Pier Francesco Pingitore nel ruolo di Giovanna ed in terapia d'urgenza, Regia di Carmine Elia, Lucio Gaudino e Giampaolo Tescari. Nel ruolo della dottoressa Laura Costa, si dedica ancora al cinema e partecipa al film Il sottile fascino del peccato. Per la regia di Franco Salvia nel ruolo di Rachele, direttrice d'albergo, e dal corto divino di Giovanni Bufalini nel ruolo di Donna. La carriera prosegue in televisione con Il delitto di Via Poma, regia di Roberto Faenza, nel ruolo di una giornalista. Sarò sempre tuo padre, regia di Lodovico Gasparini nel ruolo di Carlotta, Miss Wolf and the Lamb, regia di Roberto Leoni, La vita che corre, regia di Fabrizio Costa nel ruolo di Elena Erex. Nella quarta stagione partecipa all'episodio Gioco Sottobanco, nel ruolo di Lisa Mantuvani.